A quelli che mi romano i pensieri, quando il silenzio è troppo, a quello che poi mi farà star bene, e a tutto quello che ho sbagliato già. Motta protagonista all'Anfiteatro per un'altra serata di grande musica dal vivo, ancora una volta sold out. Il cantautore ha portato sul palco dell'Anfiteatro Sotto le Stelle il nuovo album, Semplice, assieme ad una banda rinnovata che sta conquistando tappa dopo tappa tutta l'Italia. Diciamo che quest'anno è servito a pensare a tante cose, insomma, e quindi quando montiamo sul palco adesso c'è una responsabilità, diciamo, maggiore, insomma, abbiamo veramente voglia di divertirci tanto. Ad aprire la serata, invece, Lorenzo Kruger, solo sul palco, assieme al suo pianoforte. Ci si butta così, no? Non ci sono altre maniere, non ci si può pensare troppo, se no poi si ha paura, per cui meno si pensa e meglio è. Almeno in questo campo, in tutto il resto pensate, pensate, pensate. Serve l'amore per scrivere ai miliardi di diozie, piene di rose e di tutte quelle altre smancerie. L'ex frontman Deino Braino ha infatti iniziato un percorso da solista e proprio quest'anno ha pubblicato il suo primo singolo, Con me, lo fai. La cosa che cerco è di mettermi in bocca delle parole buone che possano stare nella mia bocca tutte le sere, perché se scrivi un brutto testo, dopo dieci volte che lo canti, ti senti un cretino ed è la cosa che non funziona. Per cui se costruisci uno strumento per stare sul palco bisogna che sia perfetto e che tutte le volte che lo stai maneggiando funzioni bene. Grazie!